Quali sono i risultati importanti? All'inizio della stagione, durante, poi alla fine cominciano a diventare ancora forse più importanti i risultati, il peso dei punti che ottieni. Quello sì, sono contento di dare da tre anni a questa parte, ho tolto l'anno di B, comunque per quanto riguarda la salvezza è il mio contributo. Però la squadra sta facendo bene ed è concentrata per ottenere altri tre punti domenica. Credo che le partite si vincano anche e soprattutto studiando i minimi dettagli, perché con i particolari che si vincono le partite, a volte prepari una partita tutta la settimana sotto certi aspetti e poi ti viene cambiata per un episodio. Io avevo studiato, avevo comunque provato a memorizzare il tiro durante la settimana in un certo modo, è come quando i golfisti provano sempre senza guardare nemmeno dove va la palla, gli si mette la pallina e loro continuano a tirarla, così fa anche il calciatore, a volte si allena per memorizzare il tiro, poi ci sta la domenica che supera la barriera e ti va dall'incrocio, ci sta anche altre volte che la provi, visto che comunque non sono tante le occasioni come quelle dell'allenamento che ti vada in tribuna, in curva, però l'importante è concentrarsi sulle modalità.